Il figlio del fulgore, forse. Questo cazzo americano, va! Che dov'è ne fa? E' una sigaretta. Che vuoi fare, Marco? Di ammazzare, sto figlio di buttano, va! E' Vincent. Te ho un cazzo, Vincent. Il due non mi deve dire che devo fare. Andiamo. Dammi la pistola, forse. Oh, dammi la pistola, che parlo? Aồng! Sì, cazzo! Sì, cazzo! No, 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 no. No, 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 no.